Stasera, su Linea Sagace, io sono Kay, tu sei grasso. Presenta Keb Rockman. Buonasera. Sapevate che 34 milioni di adulti americani sono obesi? Tutto insieme quell'eccesso di ciccia potrebbe riempire per due quinti il Grand Canyon. Forse questa cifra non vi sbalordirà, ma tenete in mente che è un canyon davvero molto grande. E non Pino. Dov'è quell'aggeggio cambia... coso lì? A canale. Gli darò un'altra opportunità. Gli americani sono cresciuti con l'immagine dell'uomo grasso dal viso rubicondo, Dom DeLuise, Alfred Hitchcock e naturalmente Babbo Natale. Ma nella vita reale Babbo Natale soffrirebbe di calcoli alla cistifelle, a ipertensione, impotenza e diabete. Vorrei tanto non avessero mai inventato il formaggio fritto. Dobbiamo allargare la buca! Sì, ma fate in fretta! La catena sta per cedere! Prendiamo 118 grammi di manzo macinato croccantino e lo insuppiamo di ricco burro cremoso. Poi lo ricopriamo di pancetta, prosciutto e un uovo fritto. Lo chiamiamo il buongiorno burger. Lo voglio aiutare!